la normalissima giornata da the rock oh boy eeeh oh oh antacaboll fra ma sai che vuol dire antacaboll che non puoi toccare le boll fra in gudo for ragnarok c'è un personaggio antacaboll ah che non gli puoi toccare le palle guarda te l'ho mandato vediamo l'antacaboll e non c'è l'antacaboll ah eccolo me me ah si lo conosco aspetta guarda la fine ok vediamo la fine ma l'ha toccato e l'ha fatto diventare touchable non vuole poi toccare le palle prima no vai via allora aspetta devo ricordarmi sono già crescere il gusto della forza allora qua quante cazzo di cos'è sta ah ci può utilizzare anche e lo so è una gun game dio stronzo dio arrivo ok ma ci sono le cure e se c'è tutto in star ma io mi prendo 37 cure diverse ma non ti aumento alla vita ti curano e basta ah ma le compri ah untouchable 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 ma se io prendo le monete cosa mi da ah mi da monete no pensavo mi desse tipo xp pensavo mi faceva diventare touchable ma perchè non posso sparare ah no però ma non mi faceva sparare dentro al touchable dentro al toccapalle non potevo sparare mi prendo altre cure ma vai a troia tu l'hai cura mi prendo un po' di queste poi oh che sta l'affare la spesa queste io sto arrivando ah vedi che non sei touchable anzi che sei touchable e tu mi devo si un succo ah non posso succarmi il succo fra ma sei touchable ah no no ah si sei touchable eh ma non ti prendo manco i oh ti ho preso c'ho la mitraglietta come cazzo faccio è otto affanculo ma dove cazzo ma dove cazzo quando è uscito come ho scritto 200 no ma voglia allora compro un po' di questo ma comprati stacciola compro un po' di questo compro questo e compro quest'altro si voglio vedere come tutti come ti serviranno tantissimo quella con gli item si oh ma quanta cazzo di vita hai ti ho preso tempo 45 fra ma se ti ho fatto 100 100 e 100 no aspera mi sa che c'è il barbatrucco a noi vero su c'è i 250 non ci c'è la 100 perché io sono touchable I'm touchable io tocco le ball mi metto un po' di bus alla speed ma vai a troia si vabbè ma lo spara come lo spara ma si è rotto fra ma mi sa che mo sei touchable no ma io c'ho una roba brutta come cazzo faccio ehi dai fra ma ma tu c'hai le armi io invece c'ho l'arco di minecraft oh è forte se ti prende ma c'è ma vai a troia io c'ho l'arco di minecraft che fa no io c'ho il termico è meglio dell'arco se cambia arma sei una pussy ma io non cambio arma oh dai ma no ma tu sei un touchable ma non ti prendo ah mi è finito il bus ecco il codo ma dai quanto è lenta ma quanto è lenta sta freccia porca la troia fra io non ti riesco a giocare con questo sì e io con l'arco ma vai affanto ok sono riuscito a giocare e io no perché quest'arco fa cacaro dai ah io c'ho la cosa è impugnissimo il fucile è impugnissimo e io c'ho l'arco che non è manco ma non è un'arma l'arco cioè guarda tu mi hai preso è assai proprio oh 50 ma fa cacara la minchia sto arco fa 52 a colpo ok adesso siamo pari c'ho anche io l'arco quello verde no ma vai a troie vabbè allora compro un po' di questo allora io compro quest'altro ok ho comprato questo oppure questo perché non si sa mai ma vai a troie ma io sto arrivando ok abbiamo tutte e due l'arco è un scontro alla pari oh sì proprio la smatonna no che cazzo vuoi ah ma no no antacciavol antacciavol non ti prendo che cazzo sei Atreus è Atreus vaffanculo mamma sto arrivando oh gorri che sca in culo sì ma tu madonna madonna no no basta ma mi prendo il busto non mi hai caccato il cazzo non c'è il busto dov'è il busto dov'è il busto dov'è il busto non c'è il busto spawna se fai il tot trovato ah ma quello è scarso vabbè non mi caccare il cazzo ma quanto è lento sto martello ma fa schifo ma fa schifo alla minchia sto martello ma fa uno di down ma fa schifo cioè fra tu vieni qua con un'arma da lontano contro uno che ha cambiato l'arco no ce l'ho ancora ma faccio più danno col martello che con l'arco guarda tu ti allontani guarda quanto è lento sto schifo cioè si fa il segone quando premo allora io mi compro anche un po' di cibo ma vai a fare in culo tu hai il cibo non sia mai sono un bel ciccione io peggio di Thor si esatto non spara non spara non spara perché non spara ooooo ma quante le che scarso si ma tu c'hai le armate basta mo la cambio basta mo la cambio no 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 se la caccare il cazzo mo la cambio ok si ma pussi ma se tu l'hai già frattura è cambiata due milioni di volte non è vero è perché ci ho ammazzato si quando l'ho cambiata quando l'hai cambiata quando mi hai ammazzato eh quindi sei una pussy come si fa all'attacco quello bello eh che arma ho che arma ho c'ho un'arma formata da un pezzo di legion e un pezzo c'ho la pistola potresti uccidermi si la pistola ooooooooooooh ok no non potresti uccidermi ma è scarsissimo sto merda ok c'ho il cannone al plasma potresti potenzialmente uccidermi eh si 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 proprio oh il cannone al plasma se non c'ha chiappo non c'ha chiappo ecco non c'ha chiappo ah ma è quel cannone al plasma eh si ma tu scappi come una pussy eh vedi se non c'ha chiappo con questo non c'ha chiappo no vedi non c'ha chiappo devo scappare ma non scappi ma dove cazzo scappi 10? ma te lo rompo quel carretto antaggia volante madonna mo tiro fuori l'arco ma c'è il muro di merda vabbè ma fa caccare alla merda sta cosa oh non serve una c'ola ma non c'è madonna puttana vacca quella bastarda aia 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 donamote lo schiaccio lo scroto con la mia incudine si aia aia quanto sono lento aia siamo arrivando aia aia ma tu c'è lo scudo che si ah girati madonna vai a fare in culo crepati o scroppo muori madonna corri 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 ma non ci arriva ma non ci arriva ti prego si vola prendi lo shield prendi lo shield si oh ma quanto si allarga la palla aia ma vai a troia faccio venti di vita e la mia ultima scelta ok ho sbagliato aia oh ma non muori salta ma non ci credo ma sto martello chi l'ha creato ma chi l'ha creato sto martello di merda no basta mi devo prendere i bus pezzo di merda fai impossibile tu scappi e il martello non ci acchiappa donna io mi devo comprare i 60 ettari di cibo aspetta no maia troia i 60 ettari ok no non ti posso sparare perchè sei nella sua fezzone ooooh dio stronzo eh si salta vai a destra vai a sinistra vai a sdanta oh sto capendo un cazzo vai vai a destra vai a sinistra vai all'altra sinistra nooo non spara non spara non spara non spara aspetta vieni non spara non spara ma vai a troia vai a fare il culo nooo dove che devo andare bruuu no ma perchè hanno messo sto scudo di merda che si ricarica e c'ho anche il busto adesso fra ma non posso ammazzarti perchè se tu scappi ti si rigenera lo scudo di merda e usa l'arco quando scappano ma fa caccare la minchia ma per almeno 50 me lo fai c'è si si se ti prendo ti faccio 50 eh si ma il pompa pure ma vaffanculo va 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 vai vai ooo 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 ooooo No! Merda! Pussy! Sei una Pussy! Fra ti stacco le palle! Ma non c'ho abbastanza soldi! Ma come faccio ad essere secondo poi? E fra! Mi hai ammazzato 2 milioni di volte! Io sono secondo! Eh si! Eh si! Ma cosa scappi? Vieni me da affrontare! Fra, verona che… Vieni me da affrontare! sì sì ma magari tacchiappono magari magari tutti i fermassi porca troia di quella re pussi laggiù vedi adesso devi usare arco ma tu non lo capisci sì vabbè ma sta più fermo di tua mamma quando scopa sta più fermo del tizio con il martello ok allora devo andare a comprare va formato una moto investo col carretto guadagno una kill in più no ma ti cambia arma se investi col carretto lo sai e codo e metto qua esci se non esci sei una pussi ecco vaffanculo mamma tirati 30 e peri di cure vai le cure tu arriva vaffanculo 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 godo godo si adesso che poi non ti ho manco che il lato con il martello manco con il martello è superato la tua paura hai visto ma dai ma tu c'hai l'arma a lunga distanza io ce l'ho accorta a distanza cioè tu ce l'hai lunga io ce l'ho accorta aia oh quanto cazzo di male fa quella roba faccio le game botte ma che armato ma quanto scudo ma fa sboccare ma fa sboccare sta arma e si e ma e si si fa sboccare quello io avevo il martello io avevo il martello del mio piscello il motto è tutta la vita però vai adesso fra ti sfido ti sfido ammazzami con il martello compra le vini mi ad ammazzare con il martello ma non ce l'ho il martello io e valla a comprare e dove si prende? e nel negozio fra a destra e ma costa 150 monete e ce l'hai tu? e ne ho 20 io e grazie allo stronzo fra le spendi tutte a drogarti nel bar cioè tu ti compri la troca che cazzo di arma è? cos'è? uscille a leva ah è quello brutto no no è tipo è una specie di caccia che però fa pochissimo danno e fa caccare alla minchia cioè ma tutte le armi di merda mi diceva allora qua stanno tutte le armi del gioco e quelle di merda tutte proprio dalla prima all'ultima bastardo eh si eh ah quanto male fa quanto male fa con la roba mi hai tirato un colpo un colpo mi hai spaccato due scudi consecuti madonna adesso aspetta basta cambio arma ah sei una pussy senza pallussi sei una pussy senza pallu muori ma non c'acchiappa lo so fa caccare la ciole eh però quando c'acchiappa ma che eh si 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 proprio dietro al muro motideme però non c'acchiappa una siga ma che fucile è si va beh ma non c'acchiappa sto coso e io avevo il martello io avevo il martello non mica io il mirino te lo punto sul cocco e sparai la sabbia e lo so fra i proiettili lento quanto tua mamma aspetta ma qua io non posso sparare ma si ma no c'hai lag c'hai l'alto ground eh si fra mi serve a molto ecco appunto c'ho uno di vinta oh è crap faccio uno di vinta ricaricati ricaricati muori eh succhiami cazzo e mo arrivo anch'io a comprarmi la troca ciao vorresti anche tu contribuire allora cosa abbiamo qua basta scelta eh un po' di carne per iniziare la scorpacciata fanculo nooo vai ok ok adesso non può essermi mangiato il cosciotto voglio fuori oddio fuori siii nooo ma ma come faccia ad ammazzarli fra vuoi sapere che armavo la pistola bianca fra io non schifo perché non sono no ho detto non schifo però tu c'è un fucile io c'è una pistola bianca no 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 e dove è sei una pussie scappi ahia portana vacca e no però così no quella punta vedi io non sono una pussie ce l'ho fatta si fra ma con il martello e anche io ce l'ho fatta infatti non ho schifo e dopo tre anni fra e fra il martello tu ti mettevi a scappare il mio personaggio doveva sollevare il martello di 300 kg per inseguiti vai mi prendo lo like e porca ah ok posso prenderlo l'alto ground vuoi dire che mo vedo un fascio viola enorme che ormai ok mi servono un po' di giro eeeeeee vai me lo vado a prendere anche la droga no sto cazzo no me lo prendo no ho sbagliato droga volevo la codeia mi ha preso la cocaina che palle ok così può bastare direi che con le iniezioni ci siamo andati pesanti oggi si si mo ti viene l'attacco cardiaco ti viene 100 di danno no quella pistola bianca che arma vedi tu? una pistola ma pistola come? la mia era bianca da combattimento blu e allora non mi caccarlo stronzo la tua era blu la mia era bianca che cazzo ah ma sei una pussy no no ma no ma è la pistola oh cos'è questo fascione viola qui? sali 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 no ma io c'ho una pistola brutta e te lo faccio sfregare no ma fa più caccare della tua è la revolver improvvisata beh fra è forte è molto forte oh sta finendo vai a fare in culo che armai si maiccio la pistola bianca non scoprirai troppo eh si qua mi sei spawnato codo eh no l'ho fatta apposta perchè me la voglio godere questa arma non voglio non voglio fare il tachia ball ma non volevo ucciderti no ma c'hai l'arma con la bella eccola la pralina che spocca ok io mi vado a prendere un pochino di droga per entrarti in casa ok vengo anch'io ma tu che prendi di solito l'eroina o la cocaina? la cocaina è la mia preferita l'hanno pure messa a metà prezzo ma sai qual è la cocaina? è quella che ti rende veloce eh si la prende un po' quella che ti ma vai a troia ne prende un po' anch'io direi si salve ma salve no ho preso la ho preso l'eroina eh vabbè beccati l'eroina come la metti 30 gold mi ha dato altra cocaina ma vai a troia ma se muori ti perdi la cocaina fra ma usale per altre cose non per la cocaina tipo usale per la codeina devo fare un trick oh ca... oh no oh no oh no oh no oh no oh no no ma c'è ma c'è il canone al plasmoide bravo ma c'è il canone alla plasmon quella che lancia i plasmon e però ma non c'è più la cocaina la codeina ma non si sai che ti dico io io vado a prendermi il boost quello che mi rende codeinoso ma io mi faccio un po' di codeina in modo da essere più veloce e precoce anche ti aspetto a cazzo all'aria sono un touchable un touchable porca la putta fra sono un touchable un touchable no ma dimmi di più oh fai affare in cu vai palla vai a tro... ma hanno cambiato l'esplosione di tutte le armi no eh sì facciamo un'altra mappa no sì no ma sotto al letto no come no gold that's the ones 5 vai 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 e mo sei intrappolato e vabbè all'angolo no vabbè c'è coda si all'angolino che bruci nel plasma allora dove sei? facciamo l'ultimo che devo andare se mo vedo che sei uscito dalla mappa sei una pussy più pussy della pussy time pussy ma sei uscito ah sei una pussy no si sei una pussy touchable no sono una donna un touchable ma che cazzo di no sei una troia touchable vabbè quindi ragazzi sti razzi se vi è piaciuto il videos lasciate un like iscrivetevi condividete commentate e ci vediamo alla prossima smartellamento dei coglioni ciao ragazzi ciao 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 ciao